Inaugurato a metà aprile con 60 operatori tra medici, infermieri, volontari della protezione civile e personale amministrativo, il centro vaccinale di Castellazzo Bormida, comune dell'Alessandrino, è ormai entrato a pieno titolo fra i punti di riferimento della zona per la campagna anti-covid. L'AB è stato allestito all'interno della palestra del comune, dietro alle scuole elementari, e riesce a vaccinare una media di 200 persone al giorno. Questa mattina, accompagnato dal presidente di Castellazzo Soccorso, Francesco Zanini, e dal consigliere regionale Domenico Ravetti, vi ha fatto visita all'assessore della regione Piemonte alla protezione civile, Marco Gabusi. È un bel momento perché funziona tutto bene, il sindaco, la protezione civile e Castellazzo Soccorso hanno messo a disposizione una struttura, non solo dal punto di vista fisico, ma dal punto di vista del personale, che risponde alle esigenze dei castellazzesi, ma anche degli abitanti di Alessandria e dei comuni vicini. Questo credo sia un bel messaggio, in questo momento in cui abbiamo imparato che nessuno si salva da solo, oggi visitare questo centro per me è una grande soddisfazione, perché vediamo le persone che si vaccinano, che si stanno per salvare da questa pandemia, ma soprattutto vediamo una solidarietà trasversale, che è fatta di uomini e donne, che non si limitano a dare una mano al vicino di casa o all'amico, ma estendono questa solidarietà a tutto il territorio.